Il CONI provinciale si è fatto promotore nel 2010 di una iniziativa che ha portato alla prima edizione del premio Un libro per lo sport a Firenze. La giunta provinciale del CONI in collaborazione con il gruppo toscano USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, ha selezionato nove volumi fra i tanti proposti che sono stati poi votati via e-mail da più di mille persone e da cui è uscito il vincitore e poi tutti gli altri secondo i punteggi raggiunti. Martedì 18 gennaio 2010 sono stati presentati i primi tre classificati nella sede provinciale del CONI durante una conferenza stampa in cui è stata sottolineata dal presidente Eugenio Gianni la grande partecipazione di votanti per una idea tesa alla valorizzazione della fiorente produzione letteraria sportiva fiorentina che permette di raccontare lo sport e aspetti di vita poco conosciuti di tanti sportivi. Devo dire che abbiamo premiato cinque di questi libri rispetto a una rosa di nove libri che la giunta provinciale del CONI aveva scelto e sinceramente a parte il titolo che quest'anno spetta al libro di Michela Lanza sugli allenatori della fiorentina, la prima storia degli allenatori della fiorentina, in realtà i primi cinque libri hanno rivelato un consenso, una partecipazione e la dimostrazione attraverso il libro che il movimento sportivo sta crescendo a Firenze e provincia. Lo sport è sempre più questione sentita, avvertita, vissuta, coinvolgente e devo confessare che probabilmente il libro sportivo è quello che va per la maggiore quando si scambia un dono di Natale. È la prima edizione e visto il successo tornando avanti tutti gli anni il CONI provinciale bandirà a questo concorso un libro per lo sport a Firenze con il quale valorizzare premiando cinque titoli quelli che maggiormente ricevono consenso da parte dei cittadini fra le pubblicazioni sportive che accompagnano la fine dell'anno. Il primo premio è andato a Michele Lanza con il libro Caro Mister, edito dalla casa editrice Sasso Scritto, un libro molto impegnativo, scritto dalla giornalista sportiva fiorentina che svela attraverso interviste e testimonianze dei giocatori la personalità e il carattere degli allenatori viola che si sono succeduti nel tempo, dagli inizi fino ai nostri giorni. È un po' la storia della squadra raccontata in modo originale, un libro che può ben figurare nella biblioteca di ogni tifoso. Sicuramente è stata un'esperienza importante anche per me che l'ho scritto perché non tutto quello che c'è scritto ovviamente potevo sapere e di conseguenza è stato studiare la storia della fiorentina mentre la scrivevo. Io credo che sia un libro che un tifoso della fiorentina possa apprezzare e spero che abbia successo anche a livello di giovani, non solo di persone che hanno vissuto certe epoche. Anche perché la mia volontà era proprio quella di far conoscere ai più giovani, ai tifosi più giovani, proprio la storia della fiorentina perché la storia recente la conosciamo tutti. Mentre la storia più antica, tra virgolette, magari sì qualche cosa lo sappiamo però altre cose secondo me è bello rileggerle, farsene raccontare. Di conseguenza in questo libro c'è un po' racchiuso tutto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, che sono state veramente tante e di conseguenza spero a questo punto che questo libro possa avere lo stesso successo che ha avuto in questo concorso. Un plauso anche alla giovane cassa editrice Sasso Scritto, che ha creduto nell'iniziativa del CONI, nell'argomento del libro e in Michela Lanza. Abbiamo proposto questo argomento e su questo ci siamo un po' tutte scatenate, nel senso che ne è scaturito un libro molto simpatico, ben articolato, dove c'è tutta una serie di interessi che possono essere soddisfatti. Dalla parte storica, perché ovviamente si parla di storia dal 27 ad oggi, ma ci sono le interviste ai giocatori più importanti, ma non soltanto più importanti di tutte le epoche ai quali siamo riusciti ad arrivare. Per cui ci sono i giocatori che parlano dei propri allenatori, non sono gli allenatori che parlano di loro stessi, perché non è una monografia o delle singole piccole monografie sui vari personaggi, ma sono i giocatori che raccontano i propri allenatori nel corso degli anni. Quindi abbiamo un'evoluzione del costume, un'evoluzione dello sport, un'evoluzione della tecnica, ci sono curiosità, aneddoti, cose raccontate che fino adesso sono state rimaste chiuse negli spogliatoi. E quindi è venuto fuori un libro, come diciamo noi, di cultura, che però soddisfa tutta una serie di curiosità, un po' per tutti. Il libro di Bruno Confortini, secondo classificato dal titolo Grande Vigna, è la storia di un giocatore, Sandro Vignini, ex viola e poi militante nella lucchese del periodo d'oro, ma è soprattutto la storia di un uomo esemplare che ha lasciato un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto, per le sue grandi qualità umane. Io ho scritto la storia di Sandro Vignini, era una promessa che gli avevo fatto e l'ho portata a termine. E sono contento che questo libro abbia avuto un notevole successo, perché praticamente è quasi esaurito, e soprattutto abbia ricordato la storia di un ragazzo e anche di un professionista del calcio molto serio. Tant'è che nel libro si possono trovare testimonianze di molti personaggi del mondo del calcio importanti, come Lippi, Sacchi, Orrico, tanti compagni di squadra che ricordano questo ragazzo come un grande ragazzo. È la storia di un giovane che con un'infanzia non facile ha comunque saputo con molta determinazione farsi strada in un mondo non facile e farsi soprattutto ricordare come una persona per bene e un grande professionista. Quindi oggi per me è una giornata importante perché si ricorda una storia importante. Fa anche piacere che le cose che scrivi poi vengano riconosciute come valide, quindi oggi è doppiamente importante per me, ma soprattutto io sono contento per la famiglia, per Giovanna, per le bambine che Sandro ha lasciato e che insomma con questo libro vengano ricordate e possono capire di aver avuto un babbo, una brava persona e un grande babbo. Il volume terzo classificato, Azzurra e la notte, di Gaia Simonetti, è dedicato a Sandro Ballerini, indimenticato campione di ciclismo e commissario tecnico della Nazionale Azzurra, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 2010. Attraverso le testimonianze degli amici e dei familiari si delinea il ritratto genuino di un uomo sincero, dalla personalità schietta e carismatica. Abbiamo incentrato proprio la pubblicazione sull'uomo, cioè sul ballero, su chi era, sui suoi punti di forza, sulla sua volontà, sul fatto che era un grande motivatore e che sapeva un po' mettere d'accordo tutti e poi sono emersi anche tratti magari non conosciuti del carattere e anche iniziative che lui ha portato avanti come l'adozione di bambini in Mozambico ma anche si è adoperato perché una struttura a Giovinazzo, siamo in quel di Bari, venisse creata per permettere ai bambini di coronare un loro sogno che era proprio la bicicletta. E Franco Ballerini viene quindi ricordato dalla mamma Graziella, dalla moglie Sabrina ma anche da Paolo Bettini, l'attuale commissario tecnico, da Renato Di Rocco che è il presidente della Fed del ciclismo e anche Marcello Lippi che racconta le sue cene a base di pesce con Ballerini e per raccontarsi i loro segreti del mestiere e quindi anche i segreti che sono legati allo sport. Bellissima la testimonianza in particolare della mamma Graziella che lo ricorda nell'estate del 72 al velodromo delle Cascine quando Franco Ballerini vide il fratello Mauro, il primo genito della signora Graziella e disse quella fatica si fa a correre in bicicletta, non lo so se io sono pronto per fare questa fatica. Fortunatamente ha cambiato idea ed è arrivato appunto il campione che noi conosciamo e che non dimentichiamo. Grazie a tutti